Pace e bene. Sono fratezio dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi di Genova. Oggi vi voglio dare alcuni consigli per voi stessi per essere più felici e cercare di raggiungere i vostri obiettivi. La prima cosa da fare è percepire il proprio valore. A volte pensiamo di valere poco, a volte pensiamo di valere troppo. Ricordiamoci che nessuno vale più degli altri, nessuno è migliore degli altri, ma tutti valiamo allo stesso modo. E questo è fondamentale per poter andare avanti nella nostra vita, nella relazione anche con gli altri. La seconda cosa è ricercare un'armonia interiore legata al fatto che da un lato tendiamo a vivere in pubblico, a essere al telefono, incontrare le persone. E dall'altro a volte cerchiamo invece di chiudersi noi stessi, stare da soli e non cercare la relazione con gli altri. Come sempre, anche in questo caso, bisogna trovare una via di mezzo tra la relazione con gli altri, ma anche dei momenti di silenzio, di solitudine con noi stessi e con Dio, in modo da poter avere questo equilibrio mentale e del corpo nella nostra vita. La terza cosa importante è raggiungere gli obiettivi. Cioè, non sempre le cose vanno come si vorrebbe, ma non per questo vogliamo meno. Semplicemente dobbiamo innanzitutto capire quali sono gli obiettivi, non formare gli obiettivi troppo alti e ovviamente fare dei piccoli cambiamenti nel caso che questi obiettivi cambino magari in funzione a cose esterne a noi. Quindi, ognuno deve imparare ad ascoltarsi e capire qual è la sua massima aspirazione. Potrebbe anche interessante pensarsi fra 5, 10, 15 anni in situazioni diverse e sentire in questi ruoli diversi come ci sentiamo, qual è la situazione in cui ci sentiamo meglio. Ovviamente situazioni reali, non magiche o immaginarie. Grazie a questo possiamo facilmente capire cosa vogliamo e quali sono i nostri obiettivi. Inoltre, fare la scelta giusta. Questo è importante perché molti di noi tendono ad adeguarci a quello che ci dicono gli altri senza ascoltare noi stessi. E quindi raramente ascoltiamo i nostri desideri più profondi. Quindi dobbiamo fermarci un attimo a riflettere e scegliere la cosa che veramente vogliamo. Non quella che sembra migliore agli altri o che va bene agli altri, ma soprattutto nelle piccole cose quella che va bene a noi. Evitare ripensamenti. Molto spesso, una volta che abbiamo deciso un obiettivo, poi abbiamo delle piccole difficoltà e queste fanno in modo che si blocchiamo nel nostro cammino. Allora, a volte non dobbiamo fermarci troppo a lungo a riflettere. Abbiamo deciso, è inutile rimuginare sulle decisioni già prese, non serve più nulla. E quindi muoversi per raggiungere il nostro obiettivo senza fare ripensamenti. Oppure, appunto, come dicevo prima, dei piccoli aggiustamenti. Questo ovviamente è normale. E poi soffermarsi sulle cose interessanti. Molto spesso abbiamo paura del nuovo. E quindi invito a esplorare con curiosità tutto ciò che ci rende vivi. Spesso si tende a sorvolare sulle cose, mentre quelle che suscitano emozioni andrebbero gustate fino in fondo, in tutti i particolari. E quindi fare scivolare delle cose senza catturarle fa sentire insicuri e non ci permette di fare nuove esperienze. Non lasciare che la fretta, la timidezza o la paura impediscano di esplorare tutte queste nuove cose che suscitano interesse nella nostra vita. Ad esempio, facciamo una passeggiata, vediamo una vetrina che ci attira un attimo, noi fermiamoci due minuti a guardarla, rilassiamoci un momento, se no si va sempre di corsa e non ci fermiamo mai. Un'altra cosa è sperimentare nuove attività, specialmente attività che sono creative e che possono nutrire la nostra anima. Può essere la danza, può essere la pittura, può essere, non so, un laboratorio di scrittura creativa, può essere la realizzazione di un collage, insomma qualcosa che esprime la nostra creatività e non soltanto guardare quella che fanno gli altri. Può essere bello iscriversi a corsi d'arte, leggere, viaggiare, sperimentare cose nuove che suscitano la nostra creatività. E poi riflettere prima di agire, non agire d'impulso, ma trovare un buon equilibrio tra quello che dicono gli altri e quello che vogliamo noi. Per far questo dobbiamo ascoltarci e fare in modo di fare la cosa giusta ogni volta non è sempre facile. Agire consapevolmente, è un altro punto molto importante, molto spesso andiamo avanti per inerzia, dobbiamo essere invece consapevoli, imparare ad essere superficiali in quello che si fa non va bene, dobbiamo superare questa superficialità per cercare la consapevolezza. Cosa sto facendo in quel momento? Può essere una cosa manale, sto mangiando, sto ascoltando una persona, qualsiasi cosa sto facendo la devo fare con consapevolezza, se no vado avanti un po' per inerzia e questo non aiuta. E quindi è molto importante stimolare questa creatività, altrimenti la nostra vita è la fotocoppia del giorno precedente, facciamo le cose in modo automatico, mentre invece cerchiamo di fare cose nuove, di non fermarci sulle nostre posizioni cristallizzate, ma cercare dei nuovi stimoli, dei cambiamenti che possono aiutare a crescere nella nostra vita. Dio vi benedica.